Eclisse sistemi per porte scorrevoli a scomparsa scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it 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 Quando giochiamo in casa è particolare, dispiace non avere il pubblico, anche se sono qua di fuori e si fa sentire, dispiace per quello, però siamo imbattuti e siamo felici di questo, è un piccolo vantaggio da giocare qui. Non è un belluno del record in quanto il bel ponte del 2003 totalizzò ben 39 punti, poi infilò anche la 19esima giornata i 42, ma voi siete nella media, il vostro gruppo dal 2014 al 2015 con 31, 33 e 37 punti ha galleggiato sempre in zona playoff. Sì, sì, i sette anni che sono qui sono state più le zoie che i momenti negativi, abbiamo passato due anni a salvarci con due campionati difficoltosi, ma perché avevamo tanti giovani, Chiesa di Turno, Spencer, che adesso giocano molto bene, però sono cresciuti molto, già due anni fa per quello. E' un segnale deciso per vivere in quota le vostre prestazioni? Ci godiamo il momento, andando avanti così, sperando, anzi no sperando, continuando così, allenandoci bene e siamo fiduciosi e continuare così. Ecco, di voi si dice belluno coeso, tanta armonia nel gruppo, ma soprattutto anche nell'emergenza vi fate veramente un mosaico in sostituzione. Questa squadra sicuramente nel momento dell'emergenza tira fuori qualcosa in più, però c'è un'armonia, appunto, una coesione tra staff e giocatori molto importante, insomma. Il gruppo è sano, molto sano, i giovani anche, quindi siamo fiduciosi, insomma. Appena finito il giro non è andata, anzi ci manca una partita col delta e niente, bisogna continuare così. Ecco, nella lista degli over con propensione offensiva, te, Peddi e Sommacal, che ha invece centrato la porta di Dan, sono gli uomini ancora a zero gol. Quando l'appuntamento personale con la porta avversaria? Me lo auguro presto, però quando segna Cobra, Iari, va bene così, l'importante risultato, poi arriveranno quei loro gol, soprattutto quello di Peddi, penso, spero me lo auguro e arrivi presto. Ecco, nel gruppo storico del Belluno siete molto legati a Roberto Vecchiato, quando guardate la classifica della mandanese cosa pensate? Niente, siamo felici per lui, ma non discutiamo l'allenatore, insomma, si sa che è uno dei migliori, abbiamo avuto la fortuna di averlo qua tanti anni, la squadra è buona, ma sono tutte partite combattute, sono tutte squadre forti, lo stesso Chions che è l'ultimo, però per fare i tre punti devi sudartela tanto. Ecco, giovedì hai festeggiato i 36 anni e quindi avverti il peso di questa lunga carriera, iniziata a 16 anni a Cordiniano? Sì, diciamo che è 20 anni, esatto, con il Cordiniano, però l'entusiasmo c'è sempre di venire qua al campo, poi vedremo tra lavoro, famiglia e tutto quanto durerà. Ecco, 542 presenze a oggi, 220 con il Belluno nella gara a Oderne contro il Cerlì Muzzane, passando per Cordigliano, Peter Gena, Jeslo, Sacilese in C2 e al Vicenza. Una bella storia. Sì, dai, sono contento di quello che ho fatto, però non vedo l'ora di finire questo campionato e vedere dove possiamo arrivare, insomma. L'entusiasmo, la felicità di venire al campo c'è ancora e di sorprendere anche, quindi. Ecco, come vedi il Belluno all'uscita del Corbanese, di Bertagno, di Sommacalli e anche di Mosca? Il futuro, i giovani, c'è una programmazione? Sono giovani, sono giovani, lo stesso Corbanese, Mosca è un 90, hanno tanti anni, quindi è che hanno iniziato presto, però tolto mai che diciamo che sono più vecchietto, o meno giovane, diciamo così, però... e dietro ci sono tanti giovani, da Chiesa, da Spencer, o 2004, che già alcuni si allenano con noi, quindi vedo una buona prospettiva, un futuro erogio. Ecco, c'è fiducia quindi per un ricambio generazionale? Sicuramente, la società lavora per questo, insomma. Domenica si riparte con la prima di ritorno? All'est, dove all'andata è stata una partita un po' strana, dove non abbiamo fatto bene, e niente, sarà una battaglia, una battaglia come tutte le squadre che affrontiamo. Ecco, c'è fiducia quindi per il consiglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.